Assessore Gatti, lavorare in Abruzzo è un progetto di successo che ha portato a un risultato importante oltre 2.000 assunzioni? Sì, diciamo tra le assunzioni direttamente finanziate e le imprese che per concorrere hanno partecipato sono usciti fuori oltre 2.000 posti di lavoro, la gran parte dei quali per giovani e donne in Abruzzo. Un progetto quindi dagli esiti straordinari che ci ha dato anche la possibilità nel secondo trimestre 2010 di avere il record delle assunzioni in Abruzzo, con questo non vogliamo dire ovviamente che sia passata la nottata perché il momento è ancora difficile ma credo che per l'Abruzzo 2.000 posti di lavoro, oltre 2.000 posti di lavoro finanziati con lavorare in Abruzzo e quasi 4.000 in generale nel secondo trimestre del 2010 siano risultati eccezionali. Adesso nelle 22 ci sarà anche il Ministro Sacconi in Abruzzo, si farà un po' il punto della situazione, un'esperienza insomma da replicare? Esperienza da replicare, probabilmente sotto forma anche diversa, più settorializzata, più sui territori però credo che sia stata una risposta concreta e spesso ci riempiamo la bocca anche insomma con la retorica del declino, della disoccupazione, penso sia stata una risposta concreta che si possa toccare e che abbia dato appunto una chance a tanti giovani, tante donne, tante persone che erano in cerca di lavoro e credo anche un grande segnale di fiducia.